E' grazie al fiuto straordinario di Lachi che gli uomini della polizia locale sono riusciti a scovare un panetto di eroina di più di 400 grammi, il cui valore di mercato supera i 35.000 euro, era occultato all'interno di una conduttura di scolo delle acque piovane. Tutto è partito ieri pomeriggio da una segnalazione di un cittadino che nel vedere un giro sospetto di ragazzi nordafricani in via Zize ha allertato una pattuglia della polizia di prossimità. Il gruppo di ragazzi alla vista della pattuglia si è dileguato scappando in zona cavalcavia Camerini. Il personale della locale insieme agli agenti della squadra di sicurezza urbana hanno iniziato le ricerche, perlustrando palmo a palmo la zona e grazie all'ausilio dell'unità cinofila antidroga hanno reperito e sequestrato lo stupefacente. Sono in corso indagini per risalire l'identità degli spacciatori.